Mi piacciono i panini, maionese e ketchup, e poi per Vigilie Michelino di Gra, indossa magliette e roba ricca, e sotto i pantaloni metto sotto il mercato. Mi piacciono i panini, specialmente i cacri, e faccio mette in rupe con una serenata, e sono tra azione per lo spadastroppo, perché mi dico sempre più le tiglie di zippa. Azz! Azz! A casa di Vigilie, non ci siamo nel chino, e sono pregredita alla persona mia, si gioca e brinca, poca esperienza, ci si lascia andare con la musica pop. Invece a casa mia, nel palino nato, pensavo che era la cina, che era la famiglia, un po' che è sopra, un po' che è sopra, e poi si consumava con una super zippa. Azz! 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 Grazie.